Saranno investiti circa 2,7 milioni utilizzando i fondi FESR. La gara per l'affidamento dei lavori sarà bandita entro i prossimi 15 giorni. L'ASBARI ha approvato la delibera per aprire il centro di neuropsichiatria infantile a Monopoli nel Barese. Lo ha comunicato il direttore generale Antonio Sanguedolce durante le audizioni in prima commissione consigliare. Rispondiamo con i fatti, ha commentato il consigliere regionale di Conemidiano, Stefano Lacatena, che aveva chiesto l'audizione a un'esigenza che mi sta particolarmente a cuore dall'inizio della legislatura in consiglio regionale. La ASBARI ha approvato la delibera per il centro di neuropsichiatria infantile, la casa dei bambini e dei ragazzi che sorgerà a Monopoli. In arrivo quindi 2 milioni e 690 mila euro di fondi FESR 2021-2027 per la riqualificazione e riuso dell'immobile di proprietà del comune situato in via Gobetti, che ospiterà un centro di avanguardia per la cura e l'assistenza dei bambini e degli adolescenti affetti da patologie neuropsichiatriche.